Che fotografia si scatta con questo rapporto? Sì, guardi, innanzitutto io vorrei evidenziare che in questo 2018 si sta registrando un generale rallentamento del ciclo economico rispetto all'anno precedente a livello mondiale. E questo cangiante scenario mondiale si riverbera immediatamente su un'economia quale quella rettina fortemente evocata ai mercati del mondo. Per dare un dato io vorrei ricordare che oltre il 75% del valore aggiunto provinciale viene acquisito sui mercati mondiali che fa di Arezzo la terza provincia in Italia per intensità di export in rapporto alla popolazione. E il dato dell'export, come dicevamo, ne risente subito. Il terzo trimestre dell'anno, quindi dati freschissimi, fanno registrare un generale rallentamento soprattutto per i due distretti forti della nostra economia. Quell'Orafo, distretto che vale oltre 1200 imprese, il primo distretto italiano, fa registrare nel terzo trimestre, per quanto riguarda l'export, un rallentamento quasi del 7%. In parte compensato da quello che è il calo del valore del metallo prezioso, ma comunque è un segnale importante che si registra soprattutto sui mercati più dinamici degli ultimi anni, per esempio gli Emirati Arabi, per esempio gli Stati Uniti. In parte, solo in parte, compensato da un incremento, per esempio, del mercato di Hong Kong. L'altro distretto importante, che è quello della moda, anch'esso fa registrare una contrazione nel terzo trimestre, una contrazione per quanto riguarda il settore della pelle, delle calzature, il settore dell'abbigliamento in generale. Questo dato è compensato, diciamo, da qualche performance positiva che noi registriamo nel settore della farmaceutica, di tutta quella che è la medicina officinale galenica, e quello che riguarda le apparecchiature elettroniche e per i mezzi di trasporto, attrezzature per l'agricoltura, che qui in terra di Arezzo hanno un polo importante di produzione. Un dato importante e positivo lo ritroviamo invece sul turismo, dove i dati sono altamente positivi, si superano il milione e mezzo di presenze in provincia di Arezzo, oltre 400 mila arrivi, quindi un segnale da questo punto di vista importante. Devo comunque dire, in via più generale, che la nostra imprenditoria ha sempre dimostrato una capacità adattiva, una capacità di reazione alle difficoltà straordinaria. È un'economia forte di 45 mila imprese, più di un'impresa ogni 10 abitanti, quindi una imprenditoria capillarmente diffusa, che è veramente la forza del sistema produttivo aretino che ne fa la 18esima provincia in Italia, anche in questo caso per numero di imprese in rapporto alla popolazione.